Quanto deve durare? Un minuto. Un minuto? Perfetto, vai. Ciao, sono Viola Carofalo, sono la portavoce nazionale di Potere al Popolo. Oggi siamo a Napoli al Cinema Modernissimo a presentare la lista napoletana di questo progetto, composta da candidati che vengono dal territorio, che vengono dalle lotte, lotte ambientali, sindacali, per la parità di genere. Probabilmente noi dobbiamo essere politici come tutti quanti gli altri. Anche noi, candidati che saliamo qua sopra, dovremo essere depurattini. Quello che cambia è chi muove i figli. A muovere i figli sarà il popolo. Saranno gli oppressi, gli squittati. Questo è quello che cambia e non ce lo dobbiamo mai dimenticare. C'è bisogno di sinistra in questo paese. C'è bisogno di una sinistra vera che risponda con una cultura di sinistra, con i valori di sinistra, a un'offensiva che tende a cancellare ogni forma di civiltà dentro il paese. C'è bisogno di un'offensiva. C'è bisogno di un'offensiva.